La Regione Toscana ha un basso livello di indebitamento, circa la metà della media delle altre regioni italiane, ed è per questo che ha deciso di mettere a disposizione delle imprese fino a 80 milioni di euro per prestiti a tassi particolarmente agevolati. Il provvedimento è stato annunciato dal Presidente della Regione nel corso del suo intervento all'incontro dedicato al sistema creditizio agli enti locali e allo sviluppo del territorio, che si è svolto al Calfè Letterario delle Murate a Firenze, organizzato dal Leganet e Autonomie Locali Italiane con il sostegno di impresa San Paolo. Il Presidente ha parlato di 1,7 miliardi di debito che costano 120 milioni all'anno di interessi, cioè di onere di circa 500 euro a cittadino toscano, contro una media italiana di 1.200. Il frutto di una politica regionale che il Presidente ha definito accorta e che permetterà alla Toscana di fare ulteriori investimenti. Il Presidente ha poi chiesto una legge nazionale che permetta di ricontrattare il tasso di interesse dei muti già sottoscritti. Oggi è mediamente intorno al 5%.